Vai! Non è gun over, è gay! Faccio un'impennatina amico! Bella! Grande! Ciao! Niente, no, sono benissimo. È la seconda volta che sono qui in cinquattro giorni. Buono! Vuol dire che è una bella media. Che mi piace? Cosa ci fate la baguette francese? Ti fa tirare l'ombrello con la baguette lì, eh, sta! Vai, giù! Vai, che sei l'unico! Sì! 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 Ma ce la fate così, sì, c'è. Ce la fate o...? In pausa! In pausa! Pre-Franco! Rilassati, ragazzi! È sempre così, non veniva la strada finitore. Ah, possiamo... Un'altra volta! Un'altra volta! No! minchia agli occhi della tigre giovanni no 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 che vergogna e te sei papà qui dove siamo lele enrico magico dove siamo finiti qua c'è il cannone che spettacolo ragazzi wow ecco voi il lago di come meraviglioso questa è la strada che abbiamo fatto salire un personaggio bella 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 tua amica prima eravamo la giu